Dal libro di Mormon, un'altra testimonianza di Gesù Cristo, capitolo 3 Ed ora parlo a te, Giuseppe, mio ultimo nato. Tu nascesti nel deserto delle mie afflizioni. Sì, tua madre ti partorì nei giorni del mio più grande dolore. E possa il Signore consacrare anche a te questa terra, che è una terra preziosissima per la tua erità e per l'erità della tua posterità. Con i tuoi fratelli, per la vostra sicurezza per sempre, si accadrà che obbedirete ai comandamenti del Santo di Israele. Ed ora, Giuseppe, mio ultimo nato, che ho portato fuori dal deserto delle mie afflizioni, possa il Signore benedirti per sempre, poiché la tua posterità non sarà totalmente distrutta. Poiché, ecco, tu sei il frutto dei miei lombi, e io sono un discendente di Giuseppe, che fu portato schiavo in Egitto, e grandi furono le alleanze che il Signore fece con Giuseppe. Pertanto Giuseppe vide in verità i nostri giorni, ed egli ottenne una promessa dal Signore, che, dal frutto dei suoi lombi, il Signore Dio avrebbe fatto nascere un ramo giusto al casato di Israele. Non il Messia, ma un ramo che doveva essere spezzato, e non di meno doveva essere rammentato nelle alleanze del Signore, che il Messia si sarebbe manifestato a loro negli ultimi giorni, con spirito di potere, fino a portarli fuori dalle tenebre alla luce, sì, fuori dalle tenebre nascoste, e fuori dalla schiavitù alla libertà. Poiché Giuseppe testimoniò in verità, dicendo, «Il Signore mio Dio susciterà un veggente per il frutto dei miei lombi, che sarà un veggente di valore». Giuseppe disse in verità, «Così, mi dice il Signore, farò nascere dal frutto dei tuoi lombi un veggente scelto, ed egli sarà altamente stimato fra il frutto dei tuoi lombi, e a lui darò il comandamento di compiere un'opera per il frutto dei tuoi lombi, i suoi fratelli, che sarà di grande valore per loro, sì, per portarli a conoscenza dalle alleanze che io ho fatto con i tuoi padri. E io gli darò il comandamento di non compiere alcun'altra opera salvo l'opera che gli comanderò, e lo renderò grande ai miei occhi, poiché egli compirà la mia opera, ed egli sarà grande quanto Mosè che io ho detto che avrei suscitato per voi. Per liberare il mio popolo ho casato Israele, e io susciterò Mosè per liberare il tuo popolo dal paese d'Egitto, ma susciterò un veggente dal frutto dei tuoi lombi, e a lui darò il potere di portare alla luce la mia parola per la posterità dei tuoi lombi, e non soltanto di portare alla luce la mia parola, dice il Signore, ma di convincerli della mia parola che si sarà già diffusa tra loro. Pertanto, il frutto dei tuoi lombi scriverà, e il frutto dei lombi di Giuda scriverà, e ciò che sarà scritto dal frutto dei tuoi lombi, e anche ciò che sarà scritto dal frutto dei lombi di Giuda, cresceranno insieme fino a confondere le false dottrine, appianare le contese, stabilire la pace fra il frutto dei tuoi lombi, e portarli alla conoscenza dei loro padri nei ultimi giorni, e anche alla conoscenza delle mie alleanze, dice il Signore. E da debole, Egli sarà reso forte, nel giorno in cui la mia opera avrà inizio tra tutto il mio popolo, per restaurarti. Ho casato Israele, dice il Signore. E così profetizzò Giuseppe, dicendo, Ecco, il Signore benedirà quel leggente, e coloro che cercheranno di distruggerlo saranno confusi, poiché questa promessa che ho ottenuto dal Signore, circa il frutto dei miei lombi, sarà adempiuta. Ecco, io sono sicuro dell'adempimento di questa promessa, e il suo nome sarà come il mio, e sarà come il nome di tuo padre, ed Egli sarà come me, poiché ciò che il Signore porterà alla luce per sua mano, mediante il potere del Signore, porterà il mio popolo alla salvezza. Sì, così profetizzò Giuseppe. Sono sicuro di questo, proprio come sono sicuro della promessa di Mosè, poiché il Signore mi ha detto, Io preserverò la tua posterità per sempre. E il Signore ha detto, Io susciterò un Mosè, e gli darò potere in un bastone, e gli darò senno nello scrivere, però non gli scioglierò la lingua, cosicché parli molto, poiché non lo renderò potente nel parlare, ma gli scriverò la mia legge, col dito della mia propria mano, e farò un portavoce per lui. E il Signore mi disse pure, Io susciterò dal frutto dei tuoi lombi un portavoce per lui, e io, ecco, gli accorderò di scrivere i scritti del frutto dei tuoi lombi, per il frutto dei tuoi lombi, e il portavoce dei tuoi lombi, li proclamerà. E le parole che gli scriverà saranno le parole che è opportuno nella mia salvezza, nella mia saggezza, che giungano al frutto dei tuoi lombi, e sarà come se il frutto dei tuoi lombi avesse gridato loro dalla polvere, poiché io conosco la loro fede. Ed essi grideranno dalla polvere, sia il pentimento ai loro fratelli, anche dopo che molte generazioni saranno trascorse, e avverrà che il loro grido si leverà proprio secondo la semplicità delle loro parole, e a motivo della loro fede le loro parole usciranno dalla mia bocca per giungere ai loro fratelli, che sono il frutto dei tuoi lombi, e la debolezza delle loro parole io la renderò forte nella loro fede, perché si rammentino la mia alleanza che io feci con i tuoi padri. Ecco, ora figlio mio Giuseppe, in tal maniera, profetizzò il mio avo, pertanto, benedetto sei tu a motivo di tale alleanza, poiché la tua posterità non sarà distrutta, poiché darà ascolto alle parole del libro, e sorgerà fra loro un potente che farà molto bene, sia in parole che nei fatti, e che sia uno strumento nelle mani di Dio, con una fede straordinaria per operare vos senti prodigi, e per fare ciò che è grande agli occhi di Dio, fino a realizzare una grande restaurazione per il casato Israele e per la posterità dei tuoi fratelli. Ed ora, benedetto sei tu, Giuseppe, ecco, tu sei piccolo, pertanto, dà ascolto alle parole di tuo fratello Nefi, e ti sarà fatto proprio secondo le parole che ho detto. Ricorda le parole di tuo padre morente. Amen. Capitolo 4 Ed ora io, Nefi, parlo riguardo alle profezie di cui ha parlato mio padre riguardo a Giuseppe che fu portato in Egitto. Poiché, ecco, in verità, egli profetizzò riguardo a tutta la tua posterità, tutta la sua posterità, e non vi sono profezie più grandi di quelle che egli scrisse, e profetizzò riguardo a noi e alle nostre generazioni future, ed esse sono scritte sulle tavole di bronzo. Pertanto, dopo che mio padre ebbe cessato di parlare riguardo alle profezie di Giuseppe, chiamò i figli di Lavan, i suoi figli e le sue figlie, e disse loro, ecco, figli miei e figli miei, che siete i figli e le figlie del mio primo genito, vorrei che prestassi orecchio alle mie parole. Poiché il Signore Dio ha detto, in quanto che obbedirete ai miei comandamenti, voi prospererete nel paese, e in quanto che non obbedirete ai miei comandamenti, sarete recisi dalla mia presenza. Ma ecco, figli miei e figlie mie, io non posso scendere nella tomba senza lasciare una benedizione su di voi, poiché ecco, so che se sarete educati nel modo in cui dovete condurvi, voi non ve ne allontanerete. Pertanto, se sarete maledetti, ecco, io vi lascio la mia benedizione affinché la maledizione possa esservi tolta e ricadere sul capo dei vostri genitori. Pertanto, a motivo della mia benedizione, il Signore Dio non permetterà che voi periate. amate, pertanto, egli sarà misericordioso verso di voi e verso la vostra posterità per sempre. Ed avvenne che dopo che mio padre ebbe cessato di parlare ai figli e alle figlie di Laman, fece portare dinanzi a sé i figli e le figlie di Laman. E parlò loro dicendo, ecco figli miei e figli miei che siete i figli e le figlie del mio secondo genito. Ecco, io lascio su di voi la stessa benedizione che ho lasciato ai figli e alle figlie di Laman. Pertanto, voi non sarete totalmente distrutti, ma alla fine la vostra posterità sarà benedetta. E avvenne che quando mio padre ebbe cessato di parlare loro, ecco, egli parlò ai figli di Ismaele, figli e anche a tutto il suo casato. E dopo che ebbe cessato di parlare loro, parlò a Sam dicendo, benedetto se tu è la tua posterità poiché tu erediterai il paese come tuo fratello Nefi e la tua posterità sarà annoverata con la sua posterità e tu sarai proprio come tuo fratello e la tua posterità come la sua posterità e sarai benedetto durante tutti i tuoi giorni. Ebbene che dopo che mio padre e lei ebbe parlato a tutto il suo casato secondo i sentimenti del suo cuore e lo spirito del Signore che era in lui si fece vecchio e avvenne che morì e fu seposta. E avvenne che non molti giorni dopo la sua morte l'amano l'amano e l'amuele e i figli Ismaele si addiranno con me a causa degli ammonimenti del Signore. Poiché io Nefi ero spinto a parlare loro secondo la sua parola poiché avevo detto loro molte cose e anche mio padre prima della sua morte molti di questi detti sono scritti sulle mie altre tavole poiché le parti più storiche sono scritte sulle mie altre tavole. E su questo io scrivo le cose della mia anima e molte delle scritture che sono incise sulle tavole di bronzo poiché la mia anima si diletta nelle scritture e il mio cuore le medita e le scrivo per l'istruzione e il profitto dei miei figli. Ecco la mia anima si diletta nelle cose del Signore e il mio cuore medita continuamente sulle cose che ho visto e udito non di meno nonostante la grande bontà del Signore nel mostrarmi le sue opere grandi e meravigliose il mio cuore esclama oh miserabile uomo che sono sì il mio cuore si addolora a causa della mia carne la mia anima si affligge a causa delle mie iniquità mi sento assediato a causa delle tentazioni e dei peccati che mi assalgono davvero sì facilmente e quando desidero gioire il mio cuore geme a causa dei miei peccati non di meno io so in chi ho riposto la mia fiducia il mio dio è stato il mio sostegno e mi ha guidato nelle mie afflizioni nell'eserto e mi ha preservato sulle acque del grande abisso egli mi ha colmato del suo amore fino a consumare la mia carne egli ha confuso i miei nemici fino a far sì che fossero scorsi dinnanzi a me ecco egli ha udito il mio grido di giorno e mi ha dato conoscenza tramite visioni durante la notte e di giorno mi sono fatto ardito dinnanzi a lui in preghiera possente sì ho levato in alto la mia voce e gli angeli scesero e svolsero il loro ministero presso di me e sulle ali del suo spirito il mio corpo è stato trasportato su altissime montagne e i miei occhi hanno veduto grandi cose sì fin troppo grandi per l'uomo pertanto mi fu dunque ordinato di non scriverle oh allora se ho visto cose sì grandi se il Signore nella sua condiscendenza verso i figlioli degli uomini ha visitato i uomini con tanta misericordia perché il mio cuore dovrebbe piangere e la mia anima a tardarsi nella valle del dolore e la mia carne consumarsi è la mia forza languinare a causa delle mie afflizioni e perché dovrei cedere al peccato a causa delle mie carne sì perché dovrei dare spazio alle tentazioni cosicché il maligno abbia posto nel mio cuore per distruggere la mia pace e affliggere la mia anima perché sono adirato a causa del mio nemico risvegliati anima mia non indulgiare più nel peccato gioisci o cuor mio e non dar più posto al nemico della mia anima non ti adirare di nuovo a causa dei miei nemici non far languire le mie forze a causa delle mie afflizioni gioisci o cuor mio e grida al Signore e di o Signore io ti lo derò per sempre sì la mia anima gioirà in te poi mio Dio è rocca della mia salvezza o Signore redimerai tu la mia anima mi libererai dalle mani dei miei nemici mi renderai tale che sia scosso all'apparizione del peccato possano le porte dell'inferno essere sempre chiuse dinnanzi a me perché il mio cuore è spezzato e il mio spirito è contrito o Signore non chiudere le porte della tua giustizia dinnanzi a me affinché io possa camminare sul sentiero scosceso affinché possa essere rigoroso sulla strada pianeggiante o Signore ricordami con la veste della tua giustizia o Signore aprimi una via di scampo dinnanzi ai miei nemici raddrizza il mio sentiero dinnanzi a me non porre una pietra d'inciampo sul mio cammino ma libera la mia via dinnanzi a me e non ostruire la mia vita ma le vie del mio nemico o Signore in Te io ho confidato e in Te confiderò per sempre non porrò la mia fiducia nel braccio di carne poiché so che maledetto è colui che ripone la sua fiducia nel braccio di carne sì maledetto è colui che pone la sua fiducia nell'uomo o che fa della carne il suo braccio sì so che Dio darà generosamente a colui che chiede sì il mio Dio mi dirà se non chiedo a torto alzerò dunque a Te la mia voce sì io griderò a Te mio Dio rocca della mia rettitudine ecco la mia voce ascenderà a Te per sempre mia rocca e mio eterno Dio Amen Capitolo 5 Ecco avvenne che io Nefi gridai molto al Signore mio Dio a causa dell'ira dei miei fratelli ma ecco la loro ira aumentò contro di me tanto che cercarono di togliermi la vita sì essi mormorarono contro di me dicendo il nostro fratello minore pensa di governare su di noi e noi abbiamo avuto molte prove per causa sua pertanto ora uccidiamolo per non essere più affritti a causa delle sue parole poiché ecco noi non vogliamo averlo come nostro governatore poiché spetta a noi che siamo i fratelli maggiori governare a questo popolo ora io non scrivo su queste tavole tutte le parole che essi mormorarono contro di me ma mi basta dire che essi cercarono di togliermi la vita e avvenne che il Signore mi avvertì che io Nefi mi allontanassi da loro e fuggissi nel deserto con tutti coloro che avessero voluto venire con me pertanto avvenne che io Nefi presi la mia famiglia e anche Zoram e la sua famiglia e Sam mio fratello maggiore e la sua famiglia e Giacobbe e Giuseppe i miei fratelli minori e anche le mie sorelle e tutti coloro che volevano venire con me e tutti coloro che volevano venire con me erano coloro che credevano nei suggerimenti e nelle rivelazioni di Dio pertanto essi dettano ascolto alle mie parole e prendemmo le nostre tende e tutto ciò che ci fu possibile e viaggiamo nell'eserto per lo spazio di molti giorni e dopo aver viaggiato per lo spazio di molti giorni piantammo le nostre tende e il mio popolo volle che dessimo a quel luogo il nome Nefi pertanto lo chiamiamo Nefi e tutti coloro che erano con me presero la decisione di chiamarsi popolo di Nefi e noi eravamo osservanti nell'obbedire ai giudizi e agli statuti e ai comandamenti del Signore in ogni cosa secondo la legge di Mosè e il Signore era con noi e prosperammo grandemente poiché piantammo dei semi e raccoglievamo di ritorno in abbondanza e cominciammo ad allevare greggi e armenti e animali di ogni specie e io Nefi avevo portato anche gli annali che erano incisi sulle tavole di bronzo e anche la sfera o bussolo che fu preparata per mio padre dalla mano del Signore secondo ciò che è scritto e avvenne che cominciammo a prosperare grandemente e a moltiplicarci nel paese e io Nefi presi la spada di Labano e sul suo modello fabbricai molte spade per timore che in qualche modo il popolo che era ora chiamato l'Amaniti piombasse su di noi e ci distruggesse poiché conoscevo il loro odio verso di me e i miei figlioli e coloro che erano chiamati il mio popolo e io insegnai al mio popolo a edificare costruzioni e a lavorare con ogni specie di legno di ferro di rame di bronzo di acciaio di oro di argento e di metalli preziosi che si trovavano in grande abbondanza e io edificai un tempio e lo costruì secondo il modello del tempio di Salamone salvo che non era edificato con così tante cose preziose poiché non erano reperibili nel paese pertanto non poteva essere edificato come il tempio di Salamone ma il tipo di costruzione era simile a quello del tempio di Salamone ed era di fattura estremamente accurata e avvenne che io Nefi feci sì che il mio popolo fosse industrioso e lavorasse con le sue mani e avvenne che essi volero che io fossi loro re ma io Nefi desideravo che non avessero alcun re non di meno feci per loro quanto era il mio potere ed ecco le parole del Signore furono adempiute per i miei fratelli quelle che egli aveva detto a loro riguardo che io sarei stato loro governatore e loro insegnante pertanto ero stato loro governatore e loro insegnante secondo i comandamenti del Signore fino al tempo in cui essi cercarono di togliermi la vita pertanto fu adempiuta la parola che il Signore mi rivolse dicendo che in quanto che non daranno ascolto le tue parole saranno reciti dalla presenza del Signore ed ecco essi furono recisi dalla sua presenza ed egli fece venire su di loro la maledizione sì proprio una grave maledizione a causa della loro iniquità poiché ecco essi avevano indurito il loro cuore contro di lui cosicché erano divenuti come pietra pertanto siccome erano bianchi e bellissimi e ben fatti affinché non potessero essere motivo di seduzione per il mio popolo e il Signore Dio faceva venire di loro una pelle scura e così dice il Signore Dio io farò il modo che essi siano ripugnanti per il tuo popolo a meno che non si pentano delle loro iniquità e maledetta sarà la posterità di colui che si mescolerà alla loro posterità poiché essi saranno maledetti proprio con la stessa maledizione il Signore lo disse e fu fatto e a causa della maledizione che era su di loro essi diventarono un popolo indolente pieno di cattivere e di astuzia e cacciavano nell'eserto le bestie da preda e il Signore Dio mi disse essi saranno un flaggello per la tua posterità per spronarli a ricordarsi di me e in quanto che essi non si ricorderanno di me e non daranno scolto alle mie parole essi li flaggelleranno finché fianche alla distruzione e avvenne che io Neti consacrai Giacobbe e Giuseppe affinché fossero sacerdoti e insegnanti nella loro terra del mio popolo e avvenne che vivemmo in maniera felici e trent'anni erano trascorsi dal tempo in cui avevamo lasciato Gerusalemme e io Nefi avevo tenuto sino a questo punto gli annali del mio popolo sulle tavole che io avevo fatto e avvenne che il Signore Dio mi disse fate le altre tavole e incidi su di esse molte cose che sono buone ai miei occhi per il profitto del tuo popolo pertanto io Nefi per essere obbediente ai comandamenti andai e feci queste cose sulle quale ho inciso queste cose e ho inciso ciò che è piacevole a Dio e se il mio popolo si compiace delle cose di Dio si compiacerà delle mie incisioni che sono su queste tavole e se il mio popolo desidera conoscere le parti più particolareggiate della storia del mio popolo deve cercare nelle mie altre tavole e mi basta dire che 40 anni erano trascorsi e avevamo già avuto guerre e contese con i nostri fratelli